Musica Uh c'è uno Chi è che... Comunque salve, salve a tutti Siamo qui In questo bellissimo gioco Chi è che ho l'ho? Adesso guardo C'è chi è che lo stai guardando Ok, vediamo Ci sono io Ok Sì Madonna Oh no Mamma mia Adesso Arriba la mezza Arriba la mezza Arriba la mezza Nosa Nosa La mezza E nosa E nosa Як rega la mezza E nosa Nosa Bene, ci siamo. Cos'è? C'è anche Nifilippo arrivato. Ecco la E apposta foto, sì. Dai, Filippo, adesso lo chiamo. Sì, c'è Jazz, ciao Jazz. Scrivimi su Whatsapp se sei tu, se no non scrivo. Se sei un altro mi scrivo comunque, se lo conosco. Dai, Filippo, pezzo di Family Friendly. G6, Nico. Dai. Dai, vieni, ho iniziato la live. Cosa c'è? Dai, Filippo. Dai, Filippo. Corri. Filippo, dai. Madonna, Filippo. Gli ho messo giù un pezzo di merda. Sì, è un stupido. Non vieni a farla live. Vabbè, la facciamo solo io e te, semmai. Eh, Filippo. Filippo, se no... Ascoltami, ascoltami. Se non vieni a farla live, la facciamo solo io e Nicolò. Arrivo fra due minuti. No, due minuti è un cavolo. Devi venire adesso. Un secondo. No, un secondo niente. Non riesco a scrivere. Poveretto, c'è Jesse che sta aspettando. Beh, dai, ti invito. Ma ormai ti ha invitato due volte. Eh, oh, sei com'è. Dai, vieni a vedere la live. Che... Poi sto giocando a Fortnite, è il tuo gioco preferito. Vieni a vederlo. Veloce. Ringraziami. Perché? C'è anche lei? Grazie. Perché dovrei dirle grazie? In live. Ah, in live! C'è la Giada che sta guardando la live, mi sa. Adesso guarda. Sì. No, ma veramente è in live? Scrivimi sì se sei in live. Io non ci credo. Luca? Sì, ti sto guardando. Ah, è lei! Non è... Non è Jesse! È lei! Ok, ciao. Chi? È la Giada che ci sta guardando. Oh, adesso... Anche Matteo. Ciao Matteo, sei un mito! Chi Matteo? Matteo, suo fratello. Mamma mia. Sì, sono io. De la Giada? Mamma mia. No, no, Giacomuzzi. Mamma mia. Ciao Giada! Ciao, da quanto tempo? Da ieri. Ciao. Stamattina? Jazz. Eh... Aspetta, adesso chiedo a Jazz. Stai... Guardando. Beh dai, facciamo una partita, sennò si annoiano. Appunto dai, veloce. Coppia. Facciamo una partita che sennò vi è annullato. Oh, un commento! Un commento! Un commento! Aspetta, guardo il commento Giada, mi dispiace, scusami. Guardo il commento. Guardo il commento. Si sta facendo la piastra mentre ci... e ci guarda. Male anche. Chi è la Giada? Si sta facendo la piastra anche male. Cioè, se ne rende conto. Chi è? Chi è? No, siamo in tre. Ciao Marco! Cazzo. Vabbè, ciao, buona live. Ah... Ah beh, sì, giusto. Adesso non posso più messaggiarmi. Ve l'avevo detto. Adesso sono da solo, non ho sentito più Nicolò. Adesso lo sentite. Ciao! Oh, la resina! Allora... Oh! Beh, mi dispiace. Beh, entra nel... Lo inviti nel party. Invitalo nel party. Se no... Non puoi invito. Vai. Vai, invita. Ma ho mai voglio che guarda anche Jazz. Fate schifo, aspetta Filippo. Sta arrivando. Aspetta, arrivo. Arrivo Filippo. Ciao. Vi voglio bene. Grazie, ce ne so che ci volevi bene. Adesso andiamo qua. Qua, no, no, no. Qua, per forza. Qua. Ciao Marco, ciao. Tanto Filippo muore. È vero Angelica, c'è la gioca. Sì! Resina. Beh, ma adesso Filippo non sta giocando adesso. Filippo non sta giocando. Quindi... Buttati ora, buttati ora. No, ora no. Sì, c'è un casino di gente. Angelica, mi dispiace, ma Jason non è potuto venire perché non poteva giocare. Mi dispiace, mi dispi. Siamo in tre in live, mamma mia. Guarda, guarda quanti siamo, guarda quanti siamo. Perché siamo ancora in tre, però... Allora, si è aggiunto l'Angelica. Ah, no! Eh, non so che ti dispiace. Non so se riesci a vedere. Non so se riesci a vedere. Prendi una torre. Prendi una torre, lei. Quale? È una, dai, la scelgo io, vai. Dove sei? Dove sei? Io vado qua. Eh... Bravo, bravo. Esatto, quella è di volevo. Spacca, spacca. Spacca, spacca. No, sto allagando. Spacca, 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 spacca. No, che cadi, minchia, sono andato sotto. Andato sotto. Buona. Così, non muore. Sei te che cammini, spero. Sì. Ok, allora sei anche te. Che cammini. No, 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 non siamo da soli, non siamo da soli. C'è tanta gente. Dove? Tanta gente. Ma tu sei basso? È sotto. Sono morto. Raga, non mi messaggiate sul telefono. Sono un piano più basso di te. Sto morendo, per fortuna mi lascia morire, questo vado solo. Esatto, è qua, Luca. Eh, sono due di vita, muoio. No, beh, ma cazzo, no. No. Jess, raggiungici. È il telefono che suona! Jess. No, eh, no. Eh, non posso rispondere, Marco. Marco. Sì, 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 sono io. No, cazzo, è vero. No, non c'è soldi per chi mai. Ah, ma c'è cosa? Ciao, Marco. Ah, ciao. Ciao. Resina? Invitiamo Resina. Voglio venire. No, dove ha Resina? Dove ha Resina? Non posso messaggiarti perché sto giocando. Guarda la live. Insomma. Eh. Mirko sei il migliore. Ah, ti sentono Mirko? Beh, Mirko c'è le cuffie, non può sentirti. L'ho inviato anche a te Luca, ma perché non posso inviarlo solo a Regine. Vabbè, prezzezza. Eh, adesso l'ho invito. Regine, non viene. Dai Filippo! Facciamo in copia, dai, invia. Ma, aspetta, aspetta, aspetta. Eh, eccolo. Scrivetemi, scrivetemi nei commenti di YouTube. Chi è che sta guardando? Perché non capisco chi c'è. Ah, sì. Sorry. Vai, metiti pronto, Nico. Metti non completamento, sennò intorno avevamo un inglese. Giusto, vai. Ok, vai, siamo pronti. Oh, ci sono, ci sono. Dopo questa... Dopo questa devo andare in bagno perché mi scappo da pisciare. Ma chi c'è che ci sta guardando? Chi c'è che ci sta guardando? Eh, allora, credo, tua sorella. Ma se la sei proprio quissà? Poi, credo anche Marco e la Giada, credo. Marco, se ci sei, facci un cena. Anche te Giada, se ci sei, facci un cena. Angelica ha scritto, Filippo parla da solo. Filippo, perché parli da solo? Ah, adesso non mi sento. Non scrivo sui commenti perché sono... Sono... Ma siete... Siete proprio fissati. È collegato alla tv. Ah, è vero. Ah, sei collegato alla tv. Quindi mi potrebbe vedere anche tua mamma. Ah, ok. Perfetto, allora. Ah, avete la PS4 e la PS3? Sì, l'ho letto. Vai, raga, dove ci buttiamo? Ci buttiamo... No, di nuovo l'anno, perché moriamo come dei polli. Eh, sì, 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 dai, 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 dai. Moriamo come dei polli. Mettiamoci qua. Ok, dai. O qua, se c'è gente, andiamo qua, ok? Ok, quindi c'è la Giada e l'Angelica, mi pare. Ok, va bene. Adesso arriva anche Enrico. Sì, arriva anche Enrico. Siamo a 14 minuti di live. 14 minuti non è niente, dai. Così fate il numero. Grazie Giada che ti stai facendo la piastra in salotto. No, mi sono... Sì, allora, la Giada si sta facendo la piastra in salotto. La Giada si sta piastrando in salotto, la Giada. No, raga, sono stupido, mi sono buttato alla fine. No, alla fine. Complimenti, adesso. Oh, io vado in casa e nessuno me la ruba, eh. Ma fa un culo. Ma l'Angelica... No, ottenetemi la stalla. Angelica, devi dire, devi dire... No, c'è un botto di gente, cazzo. Eh, io sono... C'è un ultimo, però. C'è un ultimo. C'è un ultimo, però. C'è un ultimo. Allora, andiamo tutti nella casa. Angelica, tutti. No, no, c'è uno nella casa, uccidiamolo, dai. C'è uno nella casa dove uccidere uno. C'è una kill. Ce la faccia a fare la kill. Beh, ma l'ho uccido prima io. Eh... Se le uccidi, dimmelo. Vabbè dai. No, 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 dite le davanti a me, porca puttana! Porca puttana! Non è nessuna camminare perché è stupido quello di tro. No, sono morto. E vale come sono morto. No, 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 dai, vai, vai, nico, dade, ne dà... Ti ho salvato il culo che adesso mi prendo tutta la roba solo prima, se no me la rubi. Ok. No, no, io vado a fare sotto. Ah, ma non sono morto. Ah, grazie, babbo. Dai, rianimami, per favore. Ok, ok. No, ho lasciato dire bene. Marco sta guardando le live prima, però. Ti ho salvato il culo, eh? Sì, lo so. Sì, lo so. Sì, lo so. Se non ti senti tutto doppiato, ok? Chi sta guardando le live? Eh, sta guardando le mie sorelle, mi so. Anzi, abbasso un po'. Però non è tanto distancio, non è vicino. Ma alla fine può guardare anche... A quel punto, no qualcuno ha bende, eh? Sì, le ha lasciate sotto. Poh sì! No no, ti prego nuha, no, no. Filippo è il mio ti prego, l'ho visto prima io. Non ho lasciato una fortuna di Luca Luca Luca! Luca LucaONO anna la screen Luca! Babele Luca! Vara io sono beansmani Luca. Io balli it Sega ed Eric Chill dot Sennuti il magic libero. Io vampano fucile vampo fucile a mio! Pass επ them from the kiss Se si prego rasm Estatecion dei tamponi di�ówne Qualcuno mi dà colpi per rossi colpi a 15 15 ma cosa leggeri cosa vuoi educa e no no e medi 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 aspetta me di ecco lì non c'è uno io vado a fare una kill te ne do 20 sì sì 35.000 si si tranquillo che è una bella 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 no 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 ma è davvero interrato non dovevi andare fuori filippo no granata capitana vaffanculo un ucciso ma dai analizzatori hanno le granate di andare fuori da solo no niente lui in atterrati 5 ormai sono nascosto e sono nascosto qua dietro sempre per primo filippo muore sempre per primo è vero che sono arrivato terza da solo adesso voglio che tutti voi che non lo state guardando lo sappiate è sempre per colpa di resina che facciamo se c'è noi ogni volta che ci dice andiamo qua andiamo la andiamo qua moriamo sempre ok o si è giunto anche marco raga si è giunto anche marco non è vero sì sì si è giunto vado a pisciare un ottimo per favore lasciata no dai accendio fra me non capire cinque minuti fa ha dei bisogni no no lui era è andato a cagare cinque minuti fa è andato a cagare non sono di giorno è rimasto è rimasto in bagno dieci minuti ha fatto ho fatto in tempo fare due missioni di battle file ah è luca io guardo un po la live adesso così da spettatore non fischiettare mai ascoltare filippo ebbè mi pare anche giusto ma stai giusto non è vero hai avuto come una volta per domani aspetta siamo in cinque adesso siamo in cinque andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua rega sono le casette qua bello qua 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 sì sì dove ha detto filippo questa volta va bene anche se è perfetto è ora quello lì io raga io vado dalla cammella mi dispiace dalla cammella sono andato anche il cammello ci dividiamo ci dividiamo dai io vado non dobbiamo dividerci se non moriamo come dal cammello io vado vabbè però io sono più bravo di tutti ma che c'è chiesto a dire che se hai sciopato come non mai scusate anche io stiamo qua io tecnico bene stiamo scommettiamo che trovo lo scar se trovi lo scarmi sicilio ok perfetto c'è già la casa c'è già la cassa pronta qua no dovrebbe esserci una cassa io un pompa verde è qualcos'altro se sei qualcos'altro dammelo per ora no non ogni tanto il parco ecco non c'è niente non c'è niente non c'è niente no dove cazzo è la vacca capitano un po dei mattoni una pozione aspetta cos'è che si può dire in live solo le parlaggia allora questo è un canale pulito quindi in questo canale non si possono dire che sono avuti noi reti forse sì un po però non solo perché ne voglio ma solo perché luca ne fa spesso ma solo perché siamo bravi e ci vogliamo bene e quindi solo perché facciamo le gare di ruti e allora ha un senso e se lo faccio dare di ruti però non lo mi fa allora allora tenevano capace che sono capacissimo ok perfetto cosa che non c'è l'unico appunto non c'è niente andiamo dovevo rivendere te adesso era qui no non era qui dove era dentro la safe era altra praticamente guarda guarda vogliamo essere cura no non ho trovato lo scarpe ho detto una parolaccia cos'è scusate il canale pulito dove finito che bastardo ho trovato difficile salto col mirino non sapevo se ma da faccia adesso devi devi ucciderti mi dispiace ma c'è la giada che sta guardando crederì sì non lo so minimo ma spetta come il tipo è una donna sì io sono perché ho un cura gigante sì ma perché allora spiego io ho sciopato non vi dico i soldi non vi dico se sei sei brutto se allora praticamente sculenta il primo ha detto l'angelico ha detto di sculettare ora c'è anche la giulia c'è anche la giulia mi appena sento sì ci sono la giulia fa nella tinta solo perché c'è la gialla ovviamente mi pare anche giusto no praticamente io io ho questa skin perché ho sciopato sciopando significhe imparare si comprare sincero per via c'è la giada c'è anche la giada se volevi saperlo non ho detto che non c'è nessuno detto che non c'è niente aspetta lasciatemi parlare un attimo grazie venite da me andiamo praticamente io ho sciopato cioè comprato questa skin e loro due ci hanno una skin diversa per diverso perché non hanno comprato le skin insomma perché noi siamo buoni sì e no in verità non è vero non siete buoni allora praticamente io ho sciopato e ho questa skin qua filippo mi hai proibito di commentare si vergogna di non c'è uno c'è uno col trampolino attenzione dovevo già indietro vabbè sì sì 150 luca perché se allora io vado nelle case di più da luca prendi materiali un po me c'è 199 di legno che bastardo aspetta un attimo allora che mi prendo un po rispetto non allora io guardo cosa hanno lasciato nel loot filippo filippo e filippo per cosa è proibito di hai proibito di commentare all'angelica perché si vergogna ti vergogna a te lei ha scritto filippo ha proibito di commentare di commentare si vergogna di me buona allora continuo bo allora continuo perché è stupida e di fianco a me non solo che tipo non mi dici lo sta facendo e le spara cazzate assurde vabbè allora regalo scapparola parolacce è un commento rega io ho fatto ho fatto una kill ho ucciso uno ho preso quello che dovevo prendere preso scappato per lo tenere un altro anima ucciso veloci ma non dove stai zitto stai zitto per me cazzo ma va se in cinque mila sono ciao sì ma siete lenti e la merda e mi hanno ucciso e filippo le parolacce per favore hai detto merda e l'ho detto anch'io la pensavo che fu sferito il filippo 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 stai attento alle parolacce perché hai detto mer stai a quelle di ok si dice fu per bacco fu per bacco sì esatto al prossimo io mi prendo il cavall calponi cioè questa roba qua è stupenda cavall calpò filippo è morta non più però angelica questa volta filippo è morto per ultimo dai filippo solo perché neanche guardando c'è ora trattò filippo mettiti pronto filippo mettiti pronto filippo mettiti pronto sono già pronto sei pronto non sei pronto sì che pronto non è pronto non è pronto sì che cosa mi ha ritardato o luca adesso c'è enrico non so che bordano farà la rabbina beh comunque io sono sono livello sono livello 22 non sono neanche reso conto o basta mi so già per favore ma livello 22 di cosa perché non mi sento il buon altro ecco enrico eccolo è arrivato ciao enrico non posso disturbare no perché la mia live non si disturba qua va bene andiamo qua è una live pulita pulita allora andiamo qui andiamo in città andiamo per la seconda volta andiamo da dove ha detto filippo anzi non è una miniera non c'è niente nemmeno qua ma ci siamo tanta roba no dai non fidiamoci di filippo per questa volta non ci fidiamo la prossima volta diciamo la prossima volta perché non non sono mai andata la nicolò la prossima volta mai la prossima volta sceglie aspetta che città ancora di fianco la prossima volta non ho mai scelto ma si si affida a noi sì ma io mi affido io mi affido con voi no allora aspetta 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 la prossima gente la prossima andiamo su ma che città mi lasciatemi per parlare per favore nel caso non trovate una casa ce n'è una prima allora andiamo su quella prima io ne ho già trovata uno però mi hanno già ucciso se andata nella torre dell'orologio che sei imbecillo io non ti non ti curro mi dispiace no c'è uno di fiatta me che mi ha appena ucciso cosa vuoi che mi conosco io vado su questa qua e c'è un sacco di roba qua di solito adesso o luca mi dovresti fare un abbonamento perché ti sto dando più cioè visualizzazioni in sacco perché allora c'è in angelica che guarda enrico io c'è sì ma forse angelica enrico non stanno guardando insieme no stanno guardando il richiesto ora nel suo telefono e anche la ma anche ben grazie sono di fianco e sono vicini sì ma hai visto jazz cosa ha fatto anche se non ha funzionato cosa ha fatto ha praticamente ha messo cioè ha taggato c'è taggato come si dice ha comunque filmogene dappertutto io ho trovato una casa libera ci sono andato ho trovato che cosina in ora di cambiare caso non c'è la giara sono andato no no c'è ancora c'è ancora mi sa se siamo in quattro allora io che guardo l'angelica enrico no erano in giro i sei adesso pot che marco ha messo un dito no mi dispiace ricco non posso dirle quella parola di svalox iscrizione al canale di svalox anni di no 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 e svalox via dei dai marones mi dispiace vai via perché questo qua sposta spammando pezzo di sterco ma io svalox che fai schifo che questo ha taggato il cool ecco così mi piace così mi piace ricco non lo vedo ancora attagano ha taggato il cool ecco mi dispiace ma io ti segnalo come spam ma l'anno di luca rovasi carovazzi bastardo è visto il commento di prima di enrico ecco svalox via dei cogli... non si dicono queste parole vai via dai vai via ma ce ne sa se ne sarà già andato no non se n'è andato siamo con i sei svalox mi dispiace ma non si scriverà mi dispiace questi sono tutti i miei amici e non si scriveranno mai mi dispiace svalox mai perso sono tutti i miei amici e sballo che sono le vie ehi ciao marco c'è la drop c'è il drop ne prendi mai sei da solo ma cosa vuoi fare quando sono munizia previsi munizia 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 c'è una raga oddio mio oddio mio bello bello è il semi automatico quello che meglio non si va meglio con quello sì madonna bello milino anche c'è una cestri e mamma mia ma sono da solo raga mi avete siano così no è perché nessuno è venuto con me come ballerina non lo usa mi abbandonate sempre e tre volte su cinque non abbandonare ma nico nico tu non devi andare da solo io non vado da solo se poi che non venite di seguire la combicola te no la gialla si iscritta quel tizio che cattiva cosa contro di noi si stanno alleando no 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 mi dispiace già dalla mia amica si è scritta cosa chiocci la marco zone ops svalox e man bolusco man bolusco nessuno nessuno è venuto con me tre volte su cinque mi avete mi avete abbandonato ti sta ripetendo sai perché perché anche lui si chiama nicolò messa genico anche allora posto non ho capito cosa state dicendo lucchino si chiama angelica angelica non si scrive così luchino c'è la h dopo non è capace non già la n e la e la mi scrivo subito non conosci ma pure bene ho sentito parlare man bolusco però non ho mai sentito c'è l'ho sentito parlare di man bolusco l'ho sentito man bolusco però non l'ho mai visto cioè non so che sia non sai cos'è non sai come non sai non sa lascia grazie marco anche io ti adoro a mi sento famoso siamo i sette madonna quanti siamo però c'era anch'io prima ok perfetto mi state facendo solo visuale prendo un sacco di soldi ma in verità non c'è ancora una partnership cioè dove prendo i secondi perdono i soldi c'è la velocità sì però questi giovani di oggi no però questi dici sta cantando la canzone di robozi perché perché sei quanto vorrei vedere sai ma ti vorrei vedervi dal vivo ma stupido mi stai già guardando dal vivo sto guardando lui fidati marco io vedo filippo non è un bel vedere l'angeli che ha scritto l'angelica scritto fidati marco io vedo io vedo filippo dal vivo ma non è un bel vedere filippo scorreggio ecco ora fa ora l'angeli che assolutamente dopo stiamo così uniti da farci proprio la casa insieme cioè andiamo nella stessa casa ok però ti ricordo che siamo morti il tecnico se lo so ma dopo intendere mi sai volare il suo cantare marco zan e grazie questo gioco fa se creare no enrico non fa schifo questo gioco non giugiarlo questo gioco è bellissimo e enrico non insomma non insultarmi così per favore lo spero lo spero lo band uscino no no enrico mia che un bastardo no enrico mia che un bastardo ricordo questo gioco fa schifo non l'ho scritto di nuovo leggi i messaggi o io i nomi dispiace non leggo intanto la giada sono andata mi sa no no siamo in cinque mi sono scritto in quel senso vabbè stavo scherzando sono capaci sulla televisione leggi i messaggi cosa bisogna fare per iscriversi beh non fare niente intanto non ti devi iscrivere a quel canale con solda 300 300 400 euro per poi giocare a questi giochi se volete vedere video più belli dis iscrivetevi ma cavolo voi vi siete iscritti il mio papà lo sta facendo adesso tipo ma quale canale alla scuola ah alla scuola io sono al canale iscrivetevi al canale per favore iscrivetevi al canale di luis pubblicizzo io lui è un ragazzo di vent'anni ma enrico in verità io ce l'avrei un gioco serio ma il bello che loro non ce l'hanno un gioco serio no non dobbiamo no perché un gioco bello sarebbe rainbow io non ce l'hanno ma loro no non ce l'hanno quindi sono sfortunati c'è sfortunato ma il problema il problema non è avere il gioco perché alla fine un costo neanche 20 euro il problema è che per giocarci serve l'abbonamento a playstation plus ma dovete comprarmi anche quello scusa me lo compro io però tu puoi permetterlo e anche tu se vuoi non è che sia capito ma dobbiamo risparmiare le mie sardegna l'anno prossimo ok scusa che scusi che sono tirando fuori c'è una ragazza in questo live si c'è la giada però ha le stesse a nostra età non so ma chi lo sta dicendo e enrico oltre è una cosa non devi dirlo non devi dirlo c'è una ragazza se no a lui lui la corteggia ma ha dei commenti studi a il gioco dell'arcobaleno wow no ma dai si vabbè si chiama così però non è proprio al gioco dell'arcobaleno tranquilli l'ora non c'è non c'è sì c'è beh luca mi ha perso c'era o siamo i 27 toci tanto ci c'erano scuramente perché sento un bordello di casino che c'è uno da sopra se c'è uno lì c'è uno lì mi sa per aver visto la testa alla cima dell'albero che imbezzile lui ci c'è un po di کرini ma sempre rendete conto che cosa sta trovando cosa vuoi capire resina che sei morto voglio sentire anch'io perché non sento gente airdrop si guarda come la safe è diventato un uomo in puzzola e qua mi guarda in puzzola che conto per barco a che ti sparano in 52 a ma è a terra lì ha visto dove a terra vero super la discesa di l'uomo non ti conviene c'è gente da sopra che sparano da sopra sperano da sopra a te lo mancato no che palle sono bella bella e liga la città di morire no eliminato no 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 dobbiamo far di meglio luca nerd luca è il più forte che bello luca posso provarlo quando vengo a casa tua si va bene luca il più forte luca nerd agri nerd agri nerd tosetto 90 commenti o madonna ma quando ma quanto è scarso filippo è abbastanza enrico ti ha detto quanto sei scarso filippo io ho detto non ci ha detto non sono più forte si certo quanto c'è quanto c'è scarso è tipo un coglione enrico tipo erico da una a dieci sì sì marco la salva ora gioco sì la salvo la live le salvo tutte e due quanto ci vuole allora da una a dieci filippo è scarso cinque perché qualche volta è bravo quando quando si impegna è bravo però qualche volta è un po stupidino perché cinque è un bastardo no 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 fermi fermi aspetta non c'è sentito no 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 bravura da uno a dieci dai ma anche da zero a dieci io ho detto io ho detto io ho detto cinque sei perché ha detto cinque filippo io ho detto cinque perché sei da rivolti no 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 stai zitto stai zitto è capitato al lì vediamo io io lo vedo non sa proprio giocare enrico io lo vedo non sa proprio giocare il gioco dell'arcobaleno con gli unicorni intendo no non c'è non ci sono gli unicorni mi dispiace sono stupido su due qua 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 va bene io vado qua adesso l'ho fatto giocare solo per compagnia è simpatico però più o meno sorella vi dico un segreto enrico stagione disatto gioco è down perché perché testi il caso se lo guardate la verità il mostardo assurda io vado 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 nella casa e lei beh io comunque avevo detto cinque perché qualche volta ti impegni e sai giocare bene però non sarebbe da due però filippo ti fomenti troppo e fomentandoti troppo perdi non devi fomentarti fomentarti a bestia non serve non sai cazzare questo gioco quando non va dai filippo però quando vuoi ti impegni io no invece ora c'è uno nella casa c'è uno in casa adesso quando io mi impegno faccio cagare uno scar con lo scar con lo scar non voglio però c'è uno nella casa ci prego ditemi che avete in un inizio che non c'è uno di se diciamo un inizio però non sono distante da te quindi no 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 mi serve mi serve solo un'arma che ce l'ho io e se lancio un po di fumogene così non vedo un cavolo nel mio fratello non dovete dire parolacce o 99 commenti quasi 100 dito un commento a caso che così almeno siamo arriviamo a 100 ma il dito un commento a caso il commento a caso non avete commentato fino adesso fa schifo se gioco ma sono eric avete ucciso quello dentro la cosa cento commenti grandi no non lo so è scappato comunque raga secondo me l'altro l'altra live dovevo cancellarla perché non c'era nessuno che la guardava a me avviene l'ansia è anche a filippo qualche volta viene l'ansia quando gioco da sole a sto gioco c'è qualcuno c'è qualcuno che lancia a fumogere ho mandato io ho mandato io per non fare un tempo che è proprio c'è ci sono scariche che sono insomma non stanno venendo da basso e vi stanno un cilindro ma va fa un brodo bordeaux venite basso e ciao luca luca scusano scusa filtrati con le ragazze no mi dispiace no mi dispiace luca il nico sei giù sì ho fatto al basso è sono loro che che se ne vanno senza di me sei di richiestanza no mi ha ucciso mi ha ucciso tra la casa no no aspetta ora proprio erano le quattro c'è lo sono lo so angelica 5 a voi siamo arrivati a 108 commenti no no faccio schifo non avevo niente non è riuscita ho fatto due risultati dai avevano i due scar eh già i bastardi avevano due scar o uno avevano preso con me da me l'avevo l'avevo non ce l'avevano me l'ho fatto due kill con quello li ha con lo scar poffer bacco mi sto bruciando i capelli vado a preparare alla line ma devi ancora preparare lo zaino già da anche prepararlo anch'io come sempre filippo muore il filippo indominate è morto che scarso che non puoi guardare ma no ma lo chico e bastardo gli ha fatto saltare il telefono 113 commenti madonna di Filippo indominate è morto che scarso mamma è ricco importante Niccolò stai dicendo Si chiama anche Enrico Comunque prima ti aveva chiesto se eri giù C'è giù dalla casa Ah non è vero non mi sentono Nico Comunque Enrico ti aveva chiesto se eri giù dalla casa Si Ne ho uccisi due C'è si mi sente Ne ho uccisi due Si si Ne ho killati due Però poi erano in quattro In cinque perché alla fine erano due team E quindi sono arrivati sei Dove andiamo? Povero sto cazzo Oh le parole Live pulita Live pulita No lui ha fatto giusto perché Povero sto cazzo quindi ha fatto giusto Luca il migliore Sono troppo bravo Alleluia Marco Marco Zanellato Alleluia Dove andiamo dai venite dove vado io dai Io vado qua No andiamo a Pantano Ecco esatto Perché è troppo distante No andiamo qua Non lì Andiamo qua 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 No la prigione Dove dice Luca? La prigione di solito non ci va quasi nessuno Agri nert Il migliore Ah ah lo so Non è vero non sei il migliore Commentate Commentate Ehi tasighe Io vivo sempre più di te Tasighe Commentate Una di due secondi Fate questo in me In memoria di Luca No c'è un botto di gente raga Siamo molto di gente Siamo noi adesso Io vado io ciao raga Scappo ora Se ne vai E Filippo ti seguo Perché ho paura Eh chissà perché Non sei tanto Forza Le pezzane Se le passa tutte Se le passa tutte Metti asterischi Come ho fatto io Un pompa verde È bello No voglio anche fare cose Per favore C'è uno c'è uno c'è uno C'è uno qua 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 Ma ve l'ho detto 20 volte che c'è uno qua Ah non l'ho sentito Filippo 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 Resina E' scappato E' scappato Angelica Tamara in live No è morto Filippo Filippo muore Cosa? No adesso state tutti un attimo Voglio sapere Via Ma dai Già l'algo Non sento un cazzo Dai Filippo Ma dove sei andato? Ma dove sei? Ma perché scappi sempre? Ma io non me ne gioco cazzo? Come me la gioco? Dovevo giocare di squadra No da soli Eh non capisco niente C'è Enrico che continua a fare un casino assurdo Picchiero 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 vai Picchiero picchiero Botte Botte La rissa La rissa Voglio vedere pugni in faccia Calci in bocca Siamo in tre Adesso sono stati detti Commentate Hashtag live No Light Light in live Light in live Light in live Qua facciamo un sacco di Mi lasciate parlare Commentate Con chi è stato il migliore finora Finora Anzi Squadra Squadra Non stiamo facendo niente Non stiamo facendo Hashtag rissa in live Squadra Angelica L'angelica ha scritto squadra Enrico rissa Dai raga squadra Eh non so Viglio a resina Io No Marco Tu non hai fatto niente Marco Tranquillo Beh non dobbiamo stare zitti Tutto la live Perché se no Allora commentate Con che è stato il migliore Veloce Veloce Voglio proprio vedere Secondo me adesso Il migliore Non sono stato io Beh ma perché non possono vederci Se no Capirebbero che è il migliore Tipo Resina non credo Resina è stato Un codardo No dai ti voglio bene Resina è stato Un codardo Oddio mio Oddio Cosa ha trovato resina Un po' viola Resina è stato Un codardo No scherzavo Non è stato un codardo Ma è scappato E Ma cosa Ha lasciato Perché Ha lasciato Aspetta Meno Che faccio Hashtag luca Sempre il migliore No 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 Se no cade No sei lì sopra Cade dopo No sei lì sopra Non puoi più aprirlo Che cosa fai Ma si è ormai Un spacco Ecco l'erontore Bravo Ah no Ma non è lì E di sopra E Praticamente Filippo Non è stato un codardo Ma Mi lasciate Parlare Per favore No Ok Lasciano parlare Dai E Filippo Ha lasciato Dietro le spalle I propri compagni Gino Si lo so Marco Gino Lo so che ti piace Gino E ha lasciato Dietro Proprio La propria squadra E Badando solo A se stesso Come ha fatto Come ha fatto Donna Donna Come si chiama Donna Bondio Che Ha voluto salvare La vita di se stesso Invece di Badare Invece di salvare La vita della patria Ha lasciato tutto Un attimo Ha lasciato tutto Dietro le spalle Solo prendendo I suoi scar E prendendo Le sue cose Prendendo il suo metallo Come è che vado Da Il consiglio Do Filippo Fuori Dalla Magari Vieni La Seicino Marco Quante Ragazze Hai Gino E frocchio Una Per paese Marco Tantissime Femmine 146 No 146 Commenti Stiamo scherzando Sì ma stanno parlando Fra di loro Praticamente Chi è Gino Per caso È un figo Non rompergli Il cazzo Beh Gino Allora Gino Gino È Il nuovo Il nuovo Boom Che hanno fatto Nel mondo È Blur È Praticamente Come è una meme Insomma Una meme Che usano Su Su Instagram Oppure Tipo Tipo Come la Dab Ad esempio Faremo Subito Guarda lì Guarda lì Guarda lì Eh Guarda Sì Su Due Faccio Solo Vabbè Lo scar Ci vado No Vai Nella Safe Tanto Mi Ci vado Già Dove Sono andati Via Saranno Andati In safe Perché Guarda Dov'è La Safe Hai visto che c'è il dietro sai che cos'è dietro si è un po' un po' verde no c'è un'altra cosa e sta per arrivare un porto a buttare Nella safe te l'ho detto io Ho delle bende Sì Mi ha sicurato di più così Il mio amico immaginario non possiamo più fare come no no commentate ancora Gino vota lega ristorte No Sottone se distante Scommettiamo che filippo muore No no Dai pure Enrico gli dice che ha giunto il limite No non ha raggiunto il limite Non si è raggiunto non si raggiunge mai il limite nella propria vita Non c'è mai un limite nella propria vita Capito Sanno san luca vi dice le proprie opinioni sulla vita Mamma mia Questa live si sta si sta Guarda quante distante Sì sì muore Non può morire Da come lo conosco non può morire Almeno se lo conosco Sai dove vado? Vado sopra la montagna Sì ma sai dove è l'altro sei Adesso mi campero mi campero O ditemi quando arrivo Patrono C'è ancora vivo? Sono tornato Le vende Le vende Le vende Facciamo una cosa Adesso Più sono ragazze Esco No dai non uscire C'è una ragazza C'è la Giada Ti prego non uscire Dopo lì ci stanno scherano Oh hanno commentato che Hanno commentato che è il più figo della serata Comunque no Giada sono i genitori Di Nicolo Che stanno urlando contro i propri figli Ma sta commentando la Giada Non è vero Non è vero E' la Giada Che urla contro Filippo Gino è una ragazza No Si Enrico C'è la Giada C'è la Giada La Giada Era una nostra compagna Adesso muore Resinare su muore Me lo sento Pazzesco Filippo per ultimo Eh lo so Eh di Io se facesse qualcosa Con gli altri Perché non parla C'è qualcun altro La Giada La Giada La Giada Non parla Sono felice Quelli si è morto Eh però adesso è morto Eccolo Enrico Eccolo Eccolo Morto Che roba Adesso facciamo scegliere un posto Resina Scusa che non sei fare neanche una kilt Oh Filippo Filippo Eh Ne ho fatto due Enrico ha scritto Enrico ha scritto Enrico Enrico ha scritto Oh 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 Ok no no Lascia parla a Luca Enrico ha scritto Ecco L'ho morto Beh dai Allora Eso adesso non scappare mai più o stiamo facciamo scegliere un po no no facciamo scegliere un posto a resino filippo e già da già non è fidanzata di filippo mi fido di resina mi fido di resina un filo di resina adesso in tutta questa partita ci fidiamo di resina anche quando tipo muore e ci parla ci dice vai lì vai la noi ci fidiamo ok madonna con quando c'è questo caricamento ascolta ma non possiamo mettere modalità party così ci sentiamo e possiamo parlare anche quando siamo nel caricamento in che senso modalità party ah sì 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 chat di parti perché sennò qua dai chat di parti buona a ben un e posso dove morire e non vedo la chat della giada è perché la giada lo sta guardando dalla tv e non può messa e non può accettare la resina dove va dove andiamo resina quello che fa di nuovo nome troppo distante vabbè raga potete pure prendere per il culetto filippo e la giada no perché filippo adesso filippo adesso lo stanno prendendo in giro a tutti quindi meglio non prenderlo in giro e come fa a comunicare con te è whatsapp whatsapp appunto comunque stiamo arrivando ai 200 ai 200 commenti quindi se 180 siamo filippo e lui cosa abbiamo esatto quelli fumogene o vabbè le lancio ormai ola lanciate a casa lanciate a casa no filippo sono appena andato giù ehi nasconditi aspetta vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua più vicino più vicino per favore fermo 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 finalmente ti hanno finalmente ti hanno ti hanno tanto nominato luis fonsi ciao giada filippo muore no filippo non è morta no dai oh per favore eh filippo pozione pozione qua pozione prendile no prendile prendile stai morendo ecco ben del prendile almeno quelle per favore pistola cosa c'hai un'arma no c'è un cecchino qua mi sta prendendo un pezzo di mercoledì oh eccolo eh ma ho poche oh bella bella eh c'è un altro c'è un altro occhi c'è un altro no non ti ho sparato a te no vaffanbrodus filippo muore infatti 194 commenti cavolo siate più coperti eh lo so marco dobbiamo essere più coperti è perché eravamo troppo fomentati che abbiamo ucciso tutti siamo arrivati lì e dopo boh ci hanno sparato eh vabbè pazienza dai 194 dita nel capranzi 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 195 no adesso sono 198 mi dispiace avete sbagliato no comunque se riesco vi faccio vedere la dub che lo ho 199 capranzi sì capranzi perché questo questa live è pulita ehm andiamo qua cosa sono tarzanelli non sono tarzanelli sì esatto zombie jack error ok signori invierò il riscontro della della live e dei miei superiori tra pochi minuti sia la live che il canale saranno chiusi eh buongiorno sono un assistente di youtube abbiamo notato al minuto 23 che la sua live sono presenti immagini pornografiche sei ciao ha più spettatori ha più spettatori perché sto usando tutti i dispositivi che ora posso usare ha più spettatori perché sto usando tutti i dispositivi che ora posso usare credito e contene chiamo beh io non c'ho non mi dispiace ma io non c'ho soldi non c'ho soldi su porca troia c'è qualcuno sul telefono signor signor va che è va mi dispiace ma gli utenti youtube cioè quelli che lavorano su youtube non sbagliano mai a scrivere quindi mi dispiace signor le invito a essere garbato ma che volete sempre usato asterisk voglio fare chiudere il canale buffo 4 gigabyte a 2 euro per te sei ciao e poi vabbè dai insomma error mi dispiace ma te ne devi andare da ce ne devi andare perché mi stai letteralmente scassando le palle adesso ti ti espello perché mi hai rotto comunque dovete mettere like a questo video eh mi dispiace error ma ma io ti segnalmente nasconditenti dal canale mi dispiace ma eh servizio crazy si si certo error ma chiude la live chi è che ha scritto chiude chi è che ha scritto chiude la live 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 che è che ha scritto chiude la live Lo rimuovo Ma tanto L'ho abbandonato L'ho tolto dalla live Bravo Lucchino 04 Bravo Chi hai rimosso No Ma lui c'ha altri canali Ma tanto io ti rimuovo lo stesso caro Ma non c'è nessun problema E invece Ma sono solo gelosi dai via Andiamo al suo canale Scusate Ban Youtube Questo canale Non ha contenuti Cioè Pensa a te Ban Youtube Gmail 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 punto cacca Segnalato Ban Youtube Gmail punto cacca Eh si lo so Angelico Sono tutti invidiosi Quello lì non ha fatto Nessun video Su Youtube E sono invidioso Sì Non c'è nessun iscritto Vanno Youtube Merdonia Viene dalla merdonia Raga Sono solo le 10 Neanche Sono le 9 e 54 È semplice È semplice È un semplice Bimbo pervertito Non sa che fare Della mattina alla sera Non c'è nessuna Marco figa Che è che è nella casa Che è che è nella casa Che è che è nella casa Perfetto No lasciatemi Lasciatemi qualcosa Per favore Oh qualcuno ha trovato Una trappola Perché se avete trovato La trappola Dovete darla a me Oppure metterla subito Nell'entrata Nell'entrata Eh Mettila Mettila Nell'entrata Nicolò Non pervenuto No Era uno qua C'era uno qua Sotto le scale Sotto le scale Sotto le scale Nico Sotto le scale Sotto le scale Dentro la casa Sotto le scale Sotto le scale Pezzo Pezzo di Sotto le scale Sotto le scale Sotto le scale Sotto le scale 253 Commenti Enrico Babbo Pasquale scende dalle scale Ah non sento Filippo e Nico Perché? Come mai? Nico DJ DJ Nico in console Eeeh le parole Filippo è morto Comunque aspettate Forse ho capito Aspetta Aspettate Nico Allora Eeeh Sì forse la Giada l'abbiamo fatto scappare Eeeh Comunque allora Tieni premuto Dovete tenere premuto il centro Poi Dovete andare su parti Eeeh poi Vai alla schermata di parti Poi Eeeh visualizza No scherzavo Impostazioni parti Consenti Consenti la condivisione della tua voce Cos'è non consentire Non consentire Devi mettere Eeeh o consenti sempre O consenti per il party corrente Così Anche tu Anche tu Filippo Devi farlo Mi sentite Mi sentite Scrivete Adesso Ditemi se sentite Ditemi Già da dotto No stavo Decidendo cosa mettermi Domani Eeeh Allora Tieni premuto Il centro Vai al party Poi Impostazioni Aspetta Oh Tasi Impostazioni parti Vai sul party Impostazione parti E poi Consenti la condivisione della tua voce Dei metri Consenti per il party corrente Così ti sentono Perché ci avevano consentita Eeeh Nico si Ok Marco dice che Nico lo sente Ecco Adesso credo che lo senti anche Cosa Anche Filippo credo Dimmi se lo senti anche Filippo Così possiamo partire con un'altra Ok fatto Perfetto Vabbè Pronto pronto Vorrei anche io il pass battaglia però Si sentiamo Perfetto E' estrattivo Comunque guardate il mio stemma In alto A Sinistra Con il leone E Lo Lo sfondo arancione Stupendo L'ho fatto io perché Perché Non si Perché li si Ti sto guardando anche io Luca Ehi Eh si siamo in sei Comunque Vi ripeto Per chi c'era prima Non c'era prima E' arrivato dopo Oppure ha smesso di guardare Se lo dovete guardare qualcuno Guardate Luis No Non è vero Non guardate Luis Perché Perché di no Dovete guardare Non c'era la pubblicità La pubblicità Ah beh anche Luca è ovvio Luca è Luis Esatto I migliori youtuber Del mondo Più Luis Questa No secondo me Allora Qua 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 Dobbiamo imparare a montare i video bene L'uomo Insieme E allora Non c'è ma fa qualcosa Edo Cinque anni fa Angelica Io ho dato fuoco alla cartella Cinque anni fa Io ho dato fuoco alla cartella Cinque anni fa Nigo Lusco Non è vero Lo dico io Filippo Filippo Ha detto che non è vero Eh ovvio cazzo Come si fa a dare fuoco alla cartella Non è sicuro come Eh che ne sai Forse l'ha fatta La odiavo farla Forse perché è stupido C'è una casa qua sopra C'è una casa Io andrei al centro Io andrò nella casa Con la piscina Io vado dove Dove non c'è nessuno Cand al porto Ma dai ma un pezzo di sterco Vattene Vado nella casa Io andrò nella mia casa No 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 C'è uno No cosa faccio Cosa faccio Cosa faccio Cosa faccio Io vado su questo Io vado nella casa moderno Nonno Io vado dove c'è Luca Eh c'è già uno Io ho un fuoco A campo Andiamo sotto Luca Prendi la roba sotto No raga No mi sto uccidendo Mi sto uccidendo Ma che stupido Che posti del cazzo Bello Che è stato a dire Questo posto del cazzo Eh fa schifo Però Perché c'è sempre No perché Marco Mi raccomando Le parolacce Marco mi raccomando Le parolacce Prendi la granata Aspetta che le lanci Nelle altre case Eh si Aspetta che bevo la pozione Beh bevi pozione No non lo spreco per uno di vita Ok ok Granate Io direi di andarmi Oh bene Dove è l'uso Luca Qualcuno là Killalo 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 Sei in live Io Sì lo so Sì 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 Lancio una granata No 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 Killalo 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 Sono io Girati Ah davvero Non è giusto Cercate armi più belle Eh Marco Il bello È trovarle Le armi più belle Killalo Angelica Killalo Eh Questo è Il nostro verbo Di Killare Oh quasi Un altro commento E siamo a 300 Commenti Ecco Stiamo facendo la storia Sei sulle tendenze Come sono sulle tendenze Aspetta fermo lì Ciao No è impossibile Che sono sulle tendenze No Marco Dimmi la verità Che sono sulle tendenze O no Scherza Ah ok Mi sembrava strano Luca guardami Cavolo Sera sulle tendenze Guardami Oh emoji Sì meglio che Che faranno Anche materiali Se volete fare Tanti commenti Basta Che ci chiamate Sì Beh Sì Basta Comunque Sono giovani Cos'è che hanno Sono giovani Non hanno niente Da fare Quello È perché Noi non siamo giovani Oh no Siamo vecchi Noi siamo Siamo vecchi Baccumi Siamo Volecenti Vecchi Al centro del campetto Da basket C'è Cosa C'è gente Ho sentito sparare C'è gente Spariamo cazzate A nastro Madonna Quanto mi trinito Vedi Andiamo dai scappa Scappa La safe Ho sentito Uno che sparava Comunque Io non ho tirato Nessun altro colpo Se non quello di prima A caso Spero non mi abbiano sentito Costruisci Tu Sì Sì Ti seguo Eccoli Sono qua Dio mio Lascia di stare Perché Sì ma come Li raggiungiamo Andiamo Oddio mio Ma non voglio attraversare Pinnacoli pendenti Andiamo via Adesso Cidio A cosa Appunto C'era qualcosa Forse Sì ma c'è uno Sì c'è uno Dio mio Mi ha visto Oh sì No la kill era mia Però No il water Ah sì è vero La vita Mi chiedo Se l'ho trattato io 32 volte L'ho trattato io No ma va che l'ha data La kill alla te A me non mi ha dato Nessuna Sì Allora te ne do una Te ne do una Siamo pari Ne ho sette io Eh te ne do una Siamo pari Cioè se prima Non la consumavi una Luca dove sei? Oh soltanto Luca chiami Filippo Che sporca La chat Se volete compagnia Filippo va benissimo Per giocare A schifo Fonight Trovate un altro No poverina E bravo lui Quando gioca E come al solito Filippo guarda Mentre voi giocate No Non mi pare giusto Eh C'è un altro No Da sotto Dai Mi ha ucciso 3 da sotto Ce n'è 3 Da sotto Corri Corri Non salvarmi Corri Ce n'è 3 Vabbè 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 Pazienza 313 Ero 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 Ok Forse adesso la concludiamo qua la live Abbiamo fatto un'ora e 26 di registrazione Facciamo Concludiamo Facciamo la finale Dai No C'è Sì Però Cioè sì però no Siamo Siamo in 8 Dark Paco Siete Nabi Figli di Ah sì La safe Bene Dark Paco Ciao Dark Paco Adesso te ne vai Ciao Mi dispiace Dark Paco Addio Addio Dark Paco Mi sono timbito nel culo Perfetto C'è un altro che vuole essere tolto dal canale No Ok Grazie Dark Polo Paco No Dark Paco Era Dark Paco No Dark Polo Paco Facciamo l'ultimo poi basta No Dark Polo Paco No l'ultimo Cosa Niente Non lo vuoi fare No dobbiamo farne di più No io devo andare Devo andare fra poco Cosa Vabbè Solo 10 e mezza fra poco Che cazzo Che cazzo Ultimo e poi basta Eh sì vabbè Mancano 20 minuti Vabbè Sì ho gli occhi che mi bruciano Dobbiamo arrivare almeno in top Eh L'angelica ha detto che ha gli occhi che li bruciano L'ultimo e poi basta come le patatine Nico Che fa rima con Basta Con Luis Luis fa rima con tutto No Allora vi ho seguito dal inizio Eh lo so Chi è questa Domani facciamo una live No no domani non la facciamo una live Domani abbiamo allenamento Domani abbiamo allenamento Niente live Tutti e tre Dopodomani Dopodomani live Ma neanche Bravissimi raga Raga fate un po' K Se la niente Alla se vanno avanti così Eh lo so Lo so che facciamo un po' K Oh la prossima volta La prossima volta facciamo un video normale E tu lo monti bene ok Scaricati Sì sì l'ho già scaricato Fini poi scarso 333 commenti Arriviamo a 777 commenti Sì fino Sì non ci arriveremo mai Tanto se arriviamo a 400 adesso E' l'ultimo questa Vai Commentate a caso Scrivete Ciao Lettera per lettera 250 commenti La nostra ignoranza Saranno solo miei Casa mia No andiamo tutti in casa Perché c'è Tutti in casa C'è gente Sì c'è gente Sì Però io sono il primo in casa Dai seguitemi Dai che sono il primo in casa C'è una trappola qua Trappola dammi la trappola dammi la trappola O vuoi appiazzarla No dammela 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 corri corri Allora vai subito A prenderla Prima do io appiazzarla Vai Apri Sopra il soffitto Mi raccomando Mi raccomando Sopra il soffitto L'hai messa sopra il soffitto Anbè bisogna Ok perfetto Bravo È già arrivato uno Occhio Ah beh ma non può uccidervi Cioè No se mi squadrono insieme Non potete farvi danno Dalla Da quella che ho piastato io No no Uh la pressione Non è neanche aperto la cassa di munizioni No io non c'è niente Qualcuno mi dà qualcosa Tieni Aspetta Ragazzi Avete già preso tutto da basso Un pochino io Non so se ho preso tutto Oh Luca vieni qua Luca Luca Aspetta Ce n'è una Però bevile intanto Sì sì tranquillo Che è che le vede La trappola qua sopra Io mi piazzo Se c'è gente Che ne dite Di lanciare le granate Dal piano di sopra Oh una trappola A caso Una tra Sì Mi tirò nella porta Su re Io Se ce ne sono due Le metterò due porte Ci sono Due porte Ce n'è una sul retro Vieni qua Una qua E una qua No Una qua No no Ce n'è una sul retro Luca no Eh vabbè Ormai È andata Non puoi modificare No Ma va Fa un brodo Ma se C'è una porta sul retro Eh sì perché Se arrivano due Uno muore E anche E anche l'altro Che si viene qua Capito Allora Dobbiamo posizionarci Di qua Noi Esatto Non siamo in safe Appunto Eh vabbè ma Non è tanto Adesso vado di sopra A lanciare granate Così li attiro Eh dobbiamo spaccare Dall'altra parte Perché è spaccato Dalla parte storta Mi sai Ma nessuno sta venendo Mi sai Spacca Persone serie La J.D. Jazz Povero Jazz Che non è potuto Venire Fare la live Già Ci dispiace Molto Vabbè la prossima volta Farà la live Con noi Eh papà No Non c'è nessuno Quindi Mi sai No Prendi tu la pozione Sì Non è niente Io vado A aprire I silos Vai Uh una cesta Bello bello Ho tre mitragliette Devo Finire Devo finire No Devo finire Eh sono 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 andato via Devo la live Perché? Ciao Ciao Ciao